Oddio che scago raga Cos'è sta roba? Adesso è giunto il momento di farvi vedere com'è la nostra camera d'hotel Quindi faremo una specie di room tour Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Ah Non dovevamo fare un room tour Ah si Aspetta aspetta è il bus è di nuovo Io lo so benvenuti nella mia crib E' la tua Quello è un letto Si questo è un altro letto Si Questo è il bagno Bella ciao Ok Adesso stiamo andando a noleggiare delle biciclette per fare un giretto a Central Park Guarda davanti io sto dietro Mi spada Io mi sto cagando addosso raga Si è disintegrato quel bambino Che schifo vecchio Che cagata Sei sfigata bestia Che schifo Sei sporco in faccia No Hai la cagata Che schifo vecchio Cagata d'uccello La statua della libertà E questa è una cagata d'uccello Guarda i miei capelli Se sono sporchi di m***a Eh Il solito per pulire sta m***a Che schifo Ma perché sono Io sono Sfigato Michael Jordan degli uccelli Che ho peccato Cioè ma mi ha preso nel cap... Cioè dentro al cappuccio Un uccello ha cagato in faccia a Brederick Mi chiedono Com'è stato Rockefeller Eh Bello ma un ciccione mi ha spaccato la scarpa E ho fatto due chilometri senza suola Ah e com'è stata la statua della libertà Eh bello ma un uccello mi ha cagato sull'oreggio Non ci credo Fermo Fermo Ti ha cagato adesso un'altra volta No fermo Fermo Ti ha cagato sulla maglia o sono sul collo? Fermo sul collo se ti muovi sulla maglia Ah Che schifo Toglilo Con cosa? È enorme È enorme vecchio È enorme Tu non hai idea Aspetta Spero che se si sporca mi incazzo No no Vecchio toglilo A me non ci credo Ma ogni giorno mi succede qualcosa Prima c'è quel ciccione bastardo che mi spacca le scarpe Poi guardo la statua della libertà Merda sull'orecchio Poi prendo il Come cacchio si chiama? Il milkshake Merda sul collo Cristo Dio domani cosa mi capita? Mi cade un ciccione che mi caga ad osso I rumori di New York Che belli Comincio un po' a capire perché la gente dopo un tot di anni che vive qui Cammina e parla da sola Ho appena realizzato che sto facendo la stessa cosa anch'io Quello là è l'ufficio di Casey Neistat Ci sono le luci accese quindi può essere che sia dentro Magari ci sta guardando E si sta segando Ma sei serio? Ma è un dollaro Un dollaro? What? Da quando è che esistono i dollari in moneta? C'è un dollaro in moneta non lo sapevo Oggi affronteremo una nuova avventura Ovvero Andremo allo YouTube Space No devi parlare in questo modo Per andare più enfasi all'avventura Andiamo a YouTube Space Che praticamente sono gli uffici di YouTube Tipo gli studi di YouTube Insomma un po' una sede di YouTube Una roba del genere Dove si possono registrare i video Non si sente niente Madonna santa il casino di New York Ok è veramente un casino trovarlo perché non è sulla strada E ora lo stiamo cercando Siamo all'interno di tipo un mercato Non so come spiegarlo Madonna odore di pesce di prima mattina Mmm si Quasi quasi preferivo l'odore di piedi Comunque questo posto si chiama Chelsea Market Questo forse qua Si di qua Alla fine ci hanno spiegato qua all'entrata di YouTube Che tutto questo posto era una fabbrica gigantesca di Oreo 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 Ma non lo so Ma dove lo dico? Oreo Di Oreo Come funzionano gli ascensori qua È tutto complicato Ma ma è una scensora Sto robo Si è un ascensore Ma tu cacchio è grosso E' vecchio qua facevano gli Oreo Cioè Oh Gli Oreo Oddio che scago raga Cos'è sta robo Vocaboya Ma che cacchio Ma mi sento importante C'è guarda Oddio Guarda c'è un ascensore gigante Qua c'erano gli Oreo S3DF È lentissimo Hai visto quanto è grosso Google New York City Google Adesso vediamo Come sarà Hello Hello Ah ecco qua Bene Perfetto In questo momento Siamo ufficialmente entrati Siamo dentro Abbiamo dovuto fare Tutte le robe di sicurezza Ci hanno chiesto i documenti Ci hanno chiesto Il nome del canale Ed era un casino Perché qua sono inglesi Quindi se tu gli dici I5 O DF Ti guardi Ma cosa state facendo Ragazzi Perché siamo qua Non c'è un motivo Perché in realtà Esistono questi YouTube Space Che sono praticamente Come degli studi televisivi Che i YouTuber Possono utilizzare Per filmare Ci sono tutte telecamere Cioè guarda Ci sono tutte luci astronomiche E ci sono Sembra Sembra un set televisivo Ci sono tipo Stanze gigantesche Tutte quante a schermo verde Cioè cose proprio fatte apposta Per fare video belli Quindi Noi oggi siamo venuti qui A YouTube Space Di New York Per fare un video brutto Per fare un video tour Che è un video brutto Alla fine Perché non In realtà volevamo solo entrare La scusa del tour È per poter entrare Quindi Questa è l'entrata Come vedete È l'entrata Sembra tipo di essere a casa C'è il divano Il tavolo 18 schermi Come essere a casa Qua fanno le canzoni rap Avete presente In America Vanno un sacco le canzoni rap Oh Che figo Cos'è sta roba Aspetta mi sposto Cioè in tutto questo Fammi provare Io non ho la faccia Devo mettermi così Perché il mio guarda in su Il mio guarda in su È drogato Ecco Di questo parlavo Sono telecamere Che costano 500 milioni di euro Sì Ah questi sono tutti i YouTuber Che sono venuti qua Credo di sì È venuto anche Bill Gates qua Marshmallow Dove sono Dov'è la nostra foto? Dov'è la nostra foto? Non la vedo mica Grave errore Grave mancanza Vedete ci sono tutti Attrezzi Cose per far video Io non so neanche cosa siano Metà delle robe Guarda alle 10 C'è Richard Che ore sono? 9.33 C'è stato anche Jackie Chan Vsauce Forse qualcuno di questi Li conoscete Che è bello Oh È alla Walker Alla Walker Sì Adesso direi di vedere un po' Di studi Allora cominciamo Non si può entrare Sì che si può C'è solo la porta Molto molto pesante Speriamo di non rimanere chiusi dentro Non chiuderti Ecco Brava porta Brava Non chiuderti C'è l'audio Se sentite l'audio Una figata qua Qua si fanno Qua si Esatto Si fanno le Le canzoni Dai vai Vediamo il green screen Cosa può fare Boh Fai qualcosa Dove di questo? Figo Vediamo l'altro studio Andiamo No Ma cosa fai Ma poveretto Ci sarà da divertirsi poi A fare l'editing Ma quanto è chiuso Ah si ma sai Guarda Vedi che nelle porte C'è tutto Spugna Per insonorizzare È spessissima sta porta Va che roba E pesa un quintale No fermo Fermo Questa è chiusa Pazzoide Questa è chiusa Però vediamo da qua Cosa c'è Un c***o non c'è Boh Cos'è tipo un talk show Quattro chiacchiere Con David e Frederick Ma chi è sto qua? Sembra il presidente Di qualcosa Questo è un presidente Ce li incontriamo di nuovo No No È tutto chiuso Non possiamo entrare Da nessuna parte Che tour è È un set Questo è un set Questo set si utilizza In questo modo È sudata Che schifo Basta solamente Che se l'asciughi una Ma fa cagare Basta No va bene così È impossibile asciugarla Perché? Ha una potenza indescrivibile Tu devi Tu devi Portarmi un fazzoletto Di stoffa A dito Ma chi è che si porta Un fazzoletto di stoffa? Queste sono i server No qua Qua sicuramente Non possiamo entrare No non voglio neanche Provare la maniglia Perché poi Youtuber italiani Oltre a quello Youtube studio Distruggono intero Youtube Là dentro C'è un tipo Una specie di negozietto Con tutte le videocamere Cioè non è un negozietto Perché tu le prendi su gratis Però poi le devi riportare Questa Ah c'è un altro studio qua Il podcast Dici Ah sì Figo Cioè se noi registrassimo Con delle videocamere così Non cambierebbe niente Non è moschile Esatto Là dentro A quanto mi ricordo C'è cibo gratis Ci sono gli snack gratis Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima All'ultimo giorno qui a New York per dire addio alla città, addio insomma magari ci torniamo, non lo so, c'è nel senso, però per dire arrivederci andremo sull'Empire State Building. Che pale ancora sicurezza, non ce la faccio più. Spostati, spostati, guarda là che bei marmi. Ti piacciono? Io amo i marmi, li mangio a colazione. Entro nella scensura. Guarda che bei marmi, guarda che bei marmi. Siamo arrivati al 79esimo piano dell'Empire. Comunque noi siamo qui sopra l'Empire State Building, è una coincidenza pazzesca, abbiamo incontrato Leonardo che è un nostro fan. Qui mi ha già visto una volta a Trento però non è venuto a salutarmi perché ero con altre persone e ci siamo rincontrati sull'Empire State Building a New York. Probabilità una su tre miliardi. Tre miliardi, è pazzesco, è pazzesco. Abbiamo incontrato un fan sull'Empire State Building. Ti ha bloccato? Non mi ha bloccato, mi ha placcato. Mi ha placcato. Stiamo passando là fuori e praticamente lui mi ha visto e tipo ha fatto e allora ero lì, cosa aveva in faccia? Mi ha cagato ancora un uccello. 8 dollari una birra. E' un draft. Draft, cosa vuol dire? Siamo qui da Shake Shack. Qualcosa con cui i testimoni di aver pagato ce l'hai? No. Ma che chiacchia. Non me l'ha dato, mi ha dato solo il resto, il buonetta. Ce ne stiamo andando, è ufficiale. Chiaramente sfigato come sempre, non va il mio monitor. No. Ma cagare. Siamo atterrati. No. Ma cagare.